Queste persone legano un post su Facebook piuttosto che un articolo di giornale e montano il caso. Se qualcuno ha qualche dubbio, fortunatamente tutti noi abbiamo un telefono in tasca, basta fare un colpo di telefono e si chiede al segretario regionale piuttosto che al segretario federale informazioni su quello che trova sulla stampa. Inutile andare a accendere polemiche ogni volta su ogni questione solamente per avere un minimo di visibilità. Chi ha un ruolo importante a livello europeo, a livello regionale e a livello parlamentare farebbe bene ad impegnarsi in tutti i modi per dare risposte concrete al territorio che lo ha eletto. Le polemiche politiche non interessano assolutamente a nessuno. Nel Merino c'è lui, Gian Antonio Darè, spina veneta nel fianco di Salvini e le parole di Nicola Finco sono chiare. È un fiume in piena il consigliere regionale e non potrebbe essere altrimenti. Da membro del direttivo veneto della Lega, il vaso di Pandora scoperchiato dall'europarlamentare trevigiano è intollerabile perché, sottolinea, quello di prima l'Italia è una vicenda da tanto rumore per nulla. Due anni fa io, Luca Zaia, Marcato, la Stefani e Lorenzo Fontana con Massimo Bitonzi abbiamo firmato dal notaio e siamo i padri fondatori della Liga Veneta per Salvini Premier. Quindi non riesco a capire da cosa nasca la polemica su un simbolo che servirà alle amministrative di Palermo e di Messina. Resta in Veneto una certa perplessità sull'operazione siciliana e Darè ha trovato il plauso di non pochi leghisti in queste ore come Fabrizio Boron che ha rincalato la dose sull'assenza dei congressi. Ricordiamo che da aprile è possibile fare i congressi in tutte le sezioni di tutto il Veneto e non mi sembra che ci sia sta corsa a fare i congressi dappertutto. Sappiamo benissimo che per arrivare al congresso regionale prima bisogna fare tutti i congressi delle sezioni a livello locale poi ci saranno i congressi a livello provinciale e dopo si farà il congresso a livello regionale. Allora impegniamoci a fare questi benedetti congressi a livello di comuni e a livello di sezioni e poi un po' alla volta si faranno i congressi ma non è mai mancato il dibattito all'interno del partito. Per fin con la verità è un'altra non si vuole il dialogo interno e si preferisce buttare benzina sul fuoco. Io mi ricordo quando adesso qualcuno parla e fa le interviste che per qualche volta abbiamo visto segretari che sono stati in carica dieci anni senza fare mai un congresso quindi per carità va bene tutto ma se vogliamo fare il bene del partito forse qualcuno farebbe bene a starsene zitto se c'è un problema lo affronta all'interno del partito mi permetto anche, visto che faccio parte del direttivo regionale di dire basta con queste polemiche. Insomma, da prima l'Italia alle polemiche precedenti si tratterebbe di pretesti per colpire Salvini uno che, ricorda Finco, piaccia o meno ha riportato la Lega in alto dopo il periodo di crisi più grave della sua storia. Io ho fatto il militante all'epoca di Bossi all'epoca di Maroni e adesso all'epoca di Salvini il segretario di partito che sia segretario di sezione segretario provinciale, segretario regionale o segretario federale va rispettato altrimenti se tutti noi ci permettiamo di andare in tv o sulla stampa di dire quello che pensiamo su qualsiasi cosa questo non è più un partito questo è un qualcosa siamo tutti singoli partiti dove ognuno si permette di dire quello che vuole. Il messaggio ad Arè e agli altri suona come un ultimatum questa cosa non deve esistere all'interno di un partito altrimenti fai a meno di iscriverti a quel partito e di condividere una determinata linea fai dell'altro